Sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia La convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente E poi, e poi, e poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo Poi succede che è lui che invece cambia me E poi, e poi, e poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo Poi succede che è lui che invece salva me C'è che siamo padroni di tutto e di niente C'è che l'uomo non vede, non parla e non sente Qui c'è gente che spera e in mezzo a gente che spara e dispera l'amore Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore E se fosse che stiamo davvero sbagliando E facendo il più brutto dei sogni mai fatti E se fosse che stiamo soltanto giocando Una partita di scacchi tra il nero ed il bianco E poi, e poi, e poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo Poi succede che è lui che invece cambia me E poi, e poi, e poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo Poi succede che è lui che invece salva me C'è che siamo padroni di tutto e di niente C'è che l'uomo non vede, non parla e non sente Qui c'è gente che spera e in mezzo a gente che spara e dispera l'amore Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore La vita è un valore Avete ascoltato? Pink In studio, Olimpia di Domenico Il programma è stato offerto da Azienda leader nel settore Marra Trading SRL Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi Sia mobili che fissi Ricambi civili e industriali Baglia vibranti Cassonetti ecologici Cassoni scarrabili di ogni dimensione E accessori per questi ultimi Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi Effetto aggiunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC Produttore di accessori per bobine e paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser Effetto a verniciatore per grandi aziende Marra Trading SRL È in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino Telefono 0824 844722 Sito web www.marratrading.com Marra Trading Per costruire solide realtà E assistenza Per costruire 너무 Carro Reiser Per costruire